A volte i motivi della canonizzazione di un autore, di un cineasta, sono davvero imprescrutabili e l'impressione è quella che siano affidati alla mera fortuna o alla capacità di determinati paesi di penetrare in quello che è, chiamiamolo così, un mercato internazionale. Così per decenni il cinema giapponese, come sappiamo, ci è stato precluso e la penetrazione del cinema giapponese in Occidente inizia nel 1950 quando viene presentato, se non sbaglio a Venezia, Rashomon di Kurosawa e quel film lì fa scoprire improvvisamente al pubblico degli occidentali che esiste una cinematografia florida. Ma a distanza di 70 anni ormai da quella fatidica data, molti registi importantissimi sono quasi sconosciuti o comunque conosciuti soltanto al pubblico dei cinefili, dei critici, coloro i quali hanno la voglia, la pazienza, la curiosità soprattutto di inseguire i film, cercandoli per i festival. Certamente l'avvento di internet ha semplificato molto la vita a tutti noi cinefili, ma trattandosi di cinematografie a noi lontane si pone sempre il problema della barriera linguistica e quindi non è scontato trovare film sottotitolati perlomeno in inglese. Tutto questo cappello iniziale per dire che finalmente il long video italiano ha colmato una lacuna pubblicando ben tre film, io finora ne ho visti soltanto due, di Keizuke Kino Shida, un cineasta alla luce dei due film che ho visto, io lo definisco grandissimo, insomma è un quasi coetaneo di Kurosawa, di due anni più giovane, Kurosawa è del 10, Kino Shida è del 12, comunque appartiene sicuramente a quella generazione, non lo so, definiamo la classica, di registi che come Ozu Mizoguchi, Michio Naruse, anche lui ha prodato da poco alla pubblicazione di DVD, che hanno firmato opere straordinarie. Dico questo perché ho visto da pochissimo due film, questo La leggenda di Narayama, scusate perdonate il riflesso, che il cui titolo quasi omonimo, La ballata di Narayama, forse è più conosciuto perché oggetto di un altro film del 1983, questo del 1958, firmato da Shoi Mamura, un cineasta che ha avuto sicuramente più fortuna in occidente di Kino Shida. Tra l'altro è 24 occhi del 54 e sono due capolavori, cioè va detto senza tanti giri di parole, sono due capolavori. La leggenda di Narayama, tra l'altro, così può essere utile saperlo, per scelte stilistiche messe in scena è l'esatto contrario del film di Mamura. Entrambi sono tratti da un romanzo di Shichiro Fugazawa, se non ricordo male, un romanzo pubblicato da noi da Inaudi ma fuori catalogo da moltissimo tempo e il titolo italiano era le canzoni di Narayama. Fugazawa si spacciava per etnografo e si inventava un uso in corso nei villaggi del Giappone rurale, cioè che raggiunto una certa età, in questo caso 70 anni, gli anziani andavano a morire su una montagna, appunto il Narayama, il nome della montagna. Non è vero niente, però insomma partendo da questo assunto scrive questo romanzo che io non ho letto ma a questo punto cercherò di procurarmi e per primo Kino Shida ne trae un film veramente straordinario. Dicevo perché è opposto al film di Mamura? Perché fa un film tra virgolette finto, cioè un film che ripete gli stilemi, i canoni del teatro Kabuki, su cui io so pochissimo, non posso dirmi esperto, però diciamo chi vede il film si rende conto di vedere un film completamente scenografato, immerso in materiali finti, alberi finti di carta pesta, con addirittura un'introduzione dove si apre un sipario e una appunto una canzone che commenta le fasi del film secondo gli usi del teatro Kabuki, laddove il film di Mamura invece è un film da realismo veramente estremo, iperrealismo, crudissimo e molto violento. La storia appunto di questa donna, Orin, che raggiunge i 70 anni con i denti intatti, e questo per lei è un motivo di vergogna in una scena insostenibile del film, di chi in uscita addirittura se li spacca contro l'orlo di una botte. Ovviamente ha lasciato fuori campo la scena ma si intuisce ed è veramente terribile. Il figlio che non ha il coraggio di abbandonare la montagna, anche se lei insiste, perché sa di far posto così ai giovani che verranno, al pronipote che sta per nascere. Suo nipote al contrario ha un atteggiamento completamente diverso e anzi prende in giro la nonna insieme alle altre persone del villaggio perché è intollerabile che una settantenne abbia ancora i denti intatti ed è quasi un simbolo di superbia. Quindi un film insieme dolcissimo e terribile, lo definirei proprio sulla necessità di accettare la morte, un film sulla vecchiaia e sull'accettazione della morte. Visivamente straordinario il fatto di girarlo in interni con queste scenografie così clamorosamente finte, clamorosamente false, permette a chi in uscita di lavorare sulla luce in un modo che a tratti potrebbe ricordare certo Mario Bava per l'uso proprio antinaturalistico della luce. Ci sono dei colori ingiustificati dalla diegesi della messa in scena e lo rendono tanto più affascinante. L'altro film, 24 occhi, se possibile ancora più bello, del 54 è la storia del rapporto di una maestra tra... Ah, scusate, torno un attimo indietro perché vale la pena dire qualcosa sulle performance attoriali. Nella legenda di Narayama abbiamo Kinuyo Tanaka, un'attrice che ha lavorato con Misoguchi, con Ozu, cioè una delle grandi attrici del cinema giapponese, 49enne all'epoca delle riprese del film, interpreta una settantenne. Dico questo perché anche nell'altro film la protagonista si chiama, devo guardare perché si chiama Hideko Takamine ed è anche lei grandissima perché praticamente il suo personaggio copre un arco narrativo di 20 anni, 24 occhi fa riferimento nel titolo ai 12 alunni di questa maestra, quindi 24 occhi, e il film è la storia del rapporto di questa maestra con questi alunni, e il personaggio della maestra, Isacco, copre un arco narrativo di quasi 20 anni, insomma, il film inizia nel 1928, finisce nel 1946, un anno dopo la guerra, ed è la storia di come la guerra distrugge una comunità isolana portando alla morte i giovani, praticamente la maestra ha a che fare con questi bambini, li vede crescere e poi li vede morire in guerra. Questo i ragazzi. Le ragazze le vede cadere praticamente sotto le necessità della miseria, la miseria materiale che le costringe ad abbandonare gli studi e a lasciare per cercare lavoro la terra d'origine. È un film, come dire, è una straordinaria opera pacifista, un film che inizia con toni elegiaci che mano a mano che il film prosegue si incubiscono, e è anche un film, come dire, dal fortissimo risalto pedagogico. Ecco, questa cosa mi ha profondamente colpito perché senza nessun tipo di retorica racconta quanto dobbiamo, diciamo così, idealmente ai nostri maestri. Cioè nel film c'è un oggetto, una bicicletta che alla fine, che serve alla maestra nelle prime scene del film per andare al lavoro, lei abita lontana dalla scuola e nell'ultima scena questa bicicletta riparata le viene regalata dai suoi alunni a lei anziana, ormai grandi. Ripeto, la protagonista straordinaria proprio nel suggerire l'idea dell'invecchiamento senza invasivi make-up. Una scena distraziante bellezza che a me ha ricordato la scena dei Cavalieri del Nord-Ovest di Ford quando a John Wayne in pensione viene regalato dall'esercito un orologio. Scena che racconta un po', come dire, il chiudersi di una carriera. Ma il 24 occhi è un film proprio veramente sull'orrore della guerra, ecco, su come la guerra non risparmi niente e nessuno. E allo stesso tempo è anche un film, penso nel Giappone degli anni 50, anche profondamente anticonformista, un film che racconta anche non solo l'orrore ma l'assurdità della guerra. Il personaggio di Isako viene quasi accusata di essere comunista durante la guerra perché lei spinge i suoi ragazzi a non andare soldati, insomma a rifiutare questa logica di sacrificio, esterminio che poi, come dire, ricadrà frustrata sui ragazzi che in qualche modo sono stati dalla retorica patriottica, no? Quando il Giappone deporrà le armi e l'imperatore non sarà più la creatura divina che fino a prima della guerra era considerata. Le mie parole servono soltanto a, come dire, dar conto della presenza in Italia in questo momento di tre DVD di film di Keizuke Kinoshita, la leggenda di Narayama, 24 occhi, l'altro Amore, si chiama Amore Immortale, che non ho in questo momento ma sta viaggiando verso casa mia perché dopo aver visto questi due film l'ho subito comprato online. I due film di cui vi ho parlato sono due capolevori assoluta, Keizuke Kinoshita è un maestro della caratura di un Kurosawa, di un Mizuuchi, un cineasta importantissimo, centrale nel cinema giapponese nel cinema mondiale. Il fatto che nel 2022 ha, cosa sono, ha più di 30 anni ormai del suo ultimo film, insomma, Kinoshita muore poi nel 98 se non ricordo male, cioè che ancora in Italia la sua filmografia sia comunque sconosciuta è una cosa veramente triste, intollerabile, fermo restando che è ovvio che non si può vedere tutto, cioè il cinema è pieno di opere memorabili che io e come me e tanti altri cinefili, insomma, che io comunque morirò senza vederle perché appunto non si può arrivare ovunque, però devo dire che in uscita basterebbero questi due film per fare di lui un maestro imprescindibile. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.